bello a tutti fornite arts benvenuti e bentrovati su youtube eccoci in questo video per andare a spiegare brevemente come funziona questo tipo di incarico qua lo andiamo a vedere in carico combattimento sopravvivi ai giocatori vedete adesso dobbiamo sopravvivere a 200 giocatori adesso siamo nel sono sopravvissuto a 28 che cosa significa sopravvivi ai giocatori significa che durante la nostra partita devono morire gli altri giocatori ad esempio adesso vedete questa missione infatti mi è iniziata in questa partita ora 29 vedete lo sono 29 e mancano 9 giocatori ora quando se morirà qualcun altro prima di me ovviamente li andremo a 8 io salirò a 30 e quindi sopravvivi ai giocatori diciamo si fa in due o tre partite se si riesce ad arrivare verso la fine vuol dire i giocatori che muoiono prima di noi durante la partita questa è la missione da fare quando trovate sopravvivi ai giocatori è una missione un po strana da capire però questo è il senso adesso andiamo avanti perché qui siamo comunque in 9 adesso stanno sparando ecco siamo in 8 io sono a 30 ora c'è in corso un'altra sparatoria quindi potrebbe morire un altro giocatore noi da lì passeremo a 7 a 7 giocatori rimasti noi automaticamente andremo a 31 vediamo poi possiamo ovviamente ucciderli anche noi giocatori eccoli qua la sparatoria e 7 e siamo a 31 ora sono sopra lì quindi non li vediamo ora vedremo che se non moriremo noi morirà un altro giocatore noi andremo a 32 quando lì il conteggio dei giocatori andrà a 7 lo vedete il conteggio che vedete sotto la minimappa c'è un timer a fianco ci sono delle faccine diciamo una sorta di faccina che sono i personaggi personaggi giocatori rimasti e Grazie a tutti Uh mi ha pregato L'avevo visto in questo caso Comunque non aumentiamo Perché siamo noi quelli morti Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici nei vostri social Non dimenticate di lasciare un commento E come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi Al nostro canale E non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere i nostri aggiornamenti Ciao a tutti